Rapina alla BCC San Grotiatina di Piazzano di Atessa erano passate da poco le 10.30 quando due uomini hanno fatto irruzione nell'istituto e hanno intimato i cassieri di consegnare il denaro. In quel momento in banca c'erano tre dipendenti e tre clienti. I rapinatori avevano i volti travisati da sciarpe e cappelli. Uno di loro, riferiscono testimoni, brandiva un taglierino avvolto in un fazzoletto. La cassaforte a tempo era chiusa, quindi i bandetti si sono dovuti accontentare dei pochi contanti in banconote e monete contenuti nelle casse e fatti mettere in alcune buste di plastica. Ha parlato solo uno dei due uomini, aveva accento italiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Atessa. Il primo ad arrivare è stato proprio il comandante Marco Ruffini che si trovava a poche centinaia di metri dalla banca quando è stato dato l'allarme. Una manciata di secondi, sufficiente tuttavia ai banditi per dileguarsi dopo il colpo. Fuori dall'istituto ad attenderli c'era un complice. I tre sono fuggiti a bordo di una vecchia Fiat 1 di colore verde, rubata nel pomeriggio del giorno precedente ad un pensionato di Atessa. Ma l'utilitaria è stata abbandonata quasi subito e ritrovata a poche centinaia di metri dalla BCC, nel parcheggio del centro comunale San Benedetto. Gli investigatori hanno visionato le immagini della videosorveglianza, certi di poter identificare i banditi. Non si esclude che possano essere del posto. Per quattro malcapitati è stato necessario l'intervento del 118. Due uomini e due donne, tra clienti e personale della banca, hanno accusato Malori per lo spavento.